Siamo nel regno del mondo oscuro, nel lato oscuro della forza E allora, senza ulteriori induci vi presento Narsidius e Kylo Ren Siamo nel regno del mondo oscuro Narsidius e Kylo Ren L'applauso, il clavo gioco e l'arte di spada in questi frangenti Ancora una volta una grande esibizione e una grande interpretazione Vi prego signori del lato oscuro, fate vedere tutta la vostra potenza E nel frattempo possiamo chiedervi Mi scusi Spiderman, so che siamo in chiusura, però io gradirei una solo al centro per cortesia Attenzione, giustamente un ritaglio più che doveroso Vai! L'applauso del clavo gioco su una fantastica Giovecca Style Un più che doveroso solo coreografico Grande arti, Marziali, grande arti di spada